buona visione sì signore questo momento è solenne uomini state in formazione comportatevi bene ok buongiorno molto bene ma vero che sei perso l'esecuzione comunicavano un messaggio forte di quelli che nessuno vuole provare sulla propria pelle ma perché siamo circondati da pazia da via avanti amici ora il metallo si paga di meno grazie alle nuove viniere aggiorrete si fanno affari oggi il decreto in vigore da subito vieta a chi governa le parche vivere oltre misura ascoltate cittadini tutti stante la carenza di fondi dovuta alla recente campagna militare in difesa dei possedimenti esterni della repubblica verrà imposta una tassa su tutti i beni voluttuori di importazione non 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 Ce l'avete davvero? Vi hanno seguito? Certo che no Tutto è filato liscio Abbiamo seguito i vostri ordini esattamente come indicato La missione a Cipro è stata più difficile Ezio, da quanto tempo No, no, lasciatelo a me Rodrigo, ebbene, lui dov'è? Chi? Il tuo profeta? Non sembra sia apparso nessuno, Rodrigo Quante persone sono morte per questo? Per il contenuto di questo scrigno? E guarda, non c'è nessuno Tu sostieni di non credere Eppure sei venuto Non lo vedi? Il profeta è già qui Sono io il profeta Ora dammi la mela Vieni a prendertela Non c'è nessuno E' allora Grazie a tutti Sei venuto da solo Dove sono tutti gli altri? Quali altri? Non ne sai proprio nulla, vero? Guardie! 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 Dannazione! Prendetelo! Zio! Niente paura, nipote. Non sei solo. I polpi. Che ci fai qui? Noi potremmo farti la stessa domanda. Noi. A dopo le domande. Non lasciare che Borgia fuga con lo screen. Avanti! Ora morrete tutti. Guardate, amici! Il nostro Ezio è ormai un vero guerriere! Ahahahah! Avviciatò! La volpe è tagliata. È spasso! Dovremmo farlo più sovere. Fatti avanti! È una battaglia persa, ragazzo. Soprirai per mano. Proprio come tuo padre. La guerra dura da molto. Molto prima che noi due non fossimo. non è una battaglia persa, ragazzo. Non è una battaglia persa. Non è una battaglia persa. Tutti riuniti per fracassare insieme queste tette. E il blu. Non è una battaglia persa. Non è una battaglia persa. Non è una battaglia persa. Cosa fate tutti qui? Forse siamo qui per il tuo stesso motivo. Vedere apparire il profeta. Io sono qui per uccidere lo spagnolo. Non mi importa del profeta. Non è mai apparso. No? Ma tu sì. Cosa? Era stato predetto l'avvento di un profeta. E senza che lo sapessi, tu sei qui. Forse eri tu quello che cercavamo fin dall'inizio. Come? Voi chi siete? Nicolò di Bernardo dei Machiavelli. Sono un assassino. Addestrato secondo gli antichi usi per salvaguardare l'umanità. Proprio come te. Come tutti noi qui. Siete tutti assassini. Paola. La volpe. Nipote è la verità. Per anni ti abbiamo guidato, insegnandoti tutto quel che devi sapere per far parte del nostro ordine. Penso sia il momento. È fatta. Ma non è ancora finita. Vediamoci qui al ramotto. Lasciai a waki un mutlak bale colo un munchine. Per me. Queste sono le parole dei nostri antenati. Il cuore del nostro credo. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda. Nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda. Tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale. Tutto è lecito. È il momento Ezio. Oggi non seguiamo più i testi alla lettera come i nostri antenati. Ma il giuramento resta definitivo. Sei pronto a unirti a noi? Lo so. Farà male solo per un attimo, fratello. Come tante cose. Benvenuto, Ezio. Ora sei uno di noi. Vieni. C'è molto da fare. Vieni. 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 Grazie.